Il Treviso è più che mai nel pallone. Non bastava una società con un buco da 10 milioni di euro ed una squadra precipitata all'ultimo posto in classifica. Oggi, tra Stadio Tenni ed Impianti di Lancenigo, è andato in scena l'assurdo. Nella notte, tramite un annuncio sullo sito del Treviso, il Presidente Ettore Setten convoca i giornalisti per le 13. Alla conferenza stampa ci sono soltanto i rappresentanti dei soci napoletani che detengono il 60% del club. Non c'è traccia di Ettore Setten. Purtroppo il Presidente oggi non è qui perché è preso da impegni seri di lavoro che lui ha. L'assenza del Presidente però suona un po' come una sorta di spaccatura. Assolutamente no. Viene comunicata la decisione di sollevare Luca Gotti e di affidare la squadra ad Abel Balbo, l'attaccante che ha fatto la storia di Udinese e Roma. Se può far bene, credono i ragazzi, credo che possiamo ancora dire la nostra. I giornalisti prospettano il rischio di un ammuntinamento della squadra. Da adesso in poi si dovranno fare come dico io, quindi chi ci sta mi seguirà logicamente, chi non ci sta vedremo che si fa. Se ci saranno ulteriori colpi di goda, vuol dire che scriveremo una pagina di storia in un modo diverso. Dal Tenni a Lancenigo, i dirigenti parlano con la vecchia guardia. Pochi minuti dopo, l'arrivo di Abel Balbo, che incontra prima la squadra e poi lo staffa. La tensione è alta, l'attesa snervante. C'è chi cerca di sdrammatizzare e chi tradisce perplessità. A distanza di un'ora e mezza, il nuovo mister lascia gli impianti di Lancenigo da un'uscita secondaria. E alla fine Gerardo Schettino, il delegato della Berlet, spiega quanto accaduto in questi termini. Praticamente è successo che oggi non si è presentato il dottore, il medico, il dottor Munarolo, che fa parte dello staff medico, il quale era competenza sua oggi stare qui allo stadio, ai campi. Voi sapete che per regola noi non possiamo mandare degli atleti in campo senza che c'è presente un medico. Succede un incidente, succede qualsiasi cosa, siamo responsabili noi come società e il presidente in solido.